Allora, vi ricordo cosa deve fare, non sappiamo, la prima volta, la prima volta deve fare il pavimento, la terza volta deve mostrare le scarpe nuove, le vuole far vedere a tutti quanti. La quarta volta dice, questo devo fare, è una cosa che devo fare, poi, seconda sequenza, deve arrampicarsi sulle scale del suo letto perché è ora di andare a fare le nanne, però prima di fare le nanne, cosa dice? La preghiera Le preghiera Con la fa poi Peggiera La La Luce La 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 Te ne ve te ne, per�i ne e rosa... Te ne ve te ne, per p условio. Te ne ve te ne, per il lere, per il jedoch per il Records'i. Te ne ve te ne, per l'induffi. Te ne ve te ne, per il dopo passa, sì 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 l'antbeatisci sulle gате taglio taglio taglio, pugno, 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 alto, stop, alto, stop, mani sui bianchi, muovo la punta del piede da una parte e dall'altra, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, anche l'altra piede, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, faccio due belle bracciate, due belle bracciate a spire libero, però la vostra, mi girò da una parte, anche voi come dite la via, mi girò dall'altra, la prendo, prendetela, mettetela lì, ciao Grazie per la visione!